Lievito madre, burro fresco, le migliori farine, uova di galline allevate a terra, lavorazione manuale. Il segreto della bontà De Mori è semplice. Da oltre 40 anni il laboratorio piemontese si distingue per prodotti da forno e dolci dal gusto inconfondibile. Lasciatevi tentare dai gressini stirati a mano, dai torcetti al burro, dai baci di dama, dai palettoni con 30 ore di limitazione. De Mori, compassione, dal 1974. Grazie a tutti. Buonasera a tutti amici telespettatori e benvenuti in questa nuova puntata MS Channel, nel canale 814 di Sky 645 e 601 del Digitale Terrestre. Siamo qui ancora una volta io e Fabrizio in questo 2021, perché questa è la prima puntata del 2021. Buon anno, naturalmente buon anno, buon anno, buon anno a tutti. Comincia il nuovo anno solare, non comincia il girone di ritorno, c'è ancora quello d'andata da chiudere. Mi sono volutamente tenuto il cappello in testa che a volte mi dimentico proprio perché mi scordo di averlo, ma perché aspetto la puntata dove davanti ai ragazzi, e sono convinto che sarà molto presto, prenderò il cappello e dirò sono contento di togliermi il cappello da davanti. Anche se già ieri qualcosa per cominciare a togliersi il cappello l'abbiamo visto in campo. Dopo questo pareggio che tutti si domandano, perché finisce sempre così, che quando una partita va al pari, la prima domanda che sorge spontanea in tutti è un punto guadagnato o un punto perso. In qualche maniera il mister in conferenza stampa dopo la partita l'ha detto e l'ha sottolineato, è un punto che mi tengo ben stretto perché in questo momento lo reputo un punto guadagnato. Anche se non muove più di tanto la classifica, ma ci tiene in galleggiamento fuori dalla linea della gridia dei play-out e per come sono andate le cose in chiusura d'anno. Va bene così io direi. Sì va bene, ma il cappello intanto lo tengo. Lo teniamo, perché ricordiamo intanto che domenica 10 alle ore 15 infatti si è svolta la partita Novara Olbia allo stadio Silvio Piola. Oggi abbiamo Fabrizio due ospiti. Indovina un po' chi sono. Abbiamo Cesare Pogliano. Ciao Cesare. Buonasera a tutti. E poi abbiamo Vittorio Pagani, nonché è lui che ha fatto il gol al decimo, mamma mia. Ciao Vittorio. Buonasera a tutti. Dacci pure del tu, anche perché tra voi ve la intendete d'età. Abbiamo la stessa età più o meno. Un pochettino più in là con gli anni, però diamoci del tu che è molto più bello e va bene così. La meglio gioventù si direbbe davanti a queste fasce di età, se non sbaglio, a parte il 2003 che l'abbiamo assodato, anche perché legato a lui ci sono un paio di aneddoti almeno da raccontare, ma anche Cesare Pogliano non è un ragazzo che ha una carta d'identità pesante, perché se non sbaglio tu sei 98, vero Cesare? Sì, sì, ho compiuto 23 anni due giorni fa. Ah ecco, quindi approfittiamo anche per fare gli auguri. Auguri, auguri. Grazie, grazie. Anche per il compleanno e non soltanto per il nuovo anno. Posso partire da Vittorio e chiedere a lui, perché non voglio prendermi sti mal di pancia di andare a guardare i tabellini, le classifiche e le statistiche. Secondo me, caro Vittorio, tu sei andato a guardare se sei l'unico 2003 che al momento ha segnato un gol tra i professionisti o perlomeno solo in Serie C. Hai guardato? Allora, devo essere onesto, non ho guardato, però penso di essere per ora l'unico, almeno in Serie C. Io penso proprio di sì, ne siamo convinti e se così non fosse, io devo veramente sottolineare come non è cosa comune chiamare un gol di un diciassettenne nei campionati professionistici, se non davanti a giocatori che, pur continuando a rimanere perfettamente adesi alla realtà, senza grandi voli pindarici, ma come un po' tutti hanno quella parolina, quella consapevolezza che sono parte di un gioco che può venire veramente valer la pena di essere giocato. Noemi, ma lo chiedo a te che sei anche tu linea verde, come hai vissuto questa emozione di un gol così giovane, così… Allora Fabrizio, sappiamo benissimo che alla partita io sono arrivata leggermente in ritardo perché, vabbè, per vari motivi, comunque… A momenti te lo perdi, appunto, perché appena sono arrivata, bam, il gol, io mi sono girato e ho detto, cos'è successo? Non l'ho visto, com'è possibile? Però cavolo, ragazzi, complimenti, cioè così, pronti partenza, il Novara domenica è partito con il piede di guerra. Io comincierei proprio da quel piede lì e siccome è corso il rischio di non vedertelo quel gol, al di là delle immagini che ci daranno la possibilità di vederlo e rivederlo e riammirarlo perché è stato proprio un bel gol… No, ma l'ho visto… Chiedo a Vittorio di raccontarci come è stato questo gol e poi l'esultanza, l'abbiamo vista dopo, era sotto gli occhi di chi era presente o di chi ci stava seguendo con l'immagine grazie alla televisione e alle cronache radiofoniche. Vittorio, a te… Allora, il gol è sicuramente stata una delle emozioni più belle che io abbia mai provato perché trovare un gol tra i professionisti è veramente un'emozione unica. L'azione partiva centrale da quell'azione e ha voluto scambiare in quel momento e poi i miei compagni sono stati bravissimi a servire l'azione che poi ha portato al mio gol. Ed era un gol importante perché, al di là della tua soddisfazione personale, era quella parte che più era mancata nel finale di anno, nel finale di 2020, prima della pausa per queste brevi vacanze di Natale e di ultimo dell'anno, perché ricordiamo che loro si sono anche ritrovati prima rispetto al previsto per poter mettere a posto un pochettino le cose rispetto a come si erano messe, ma quello che mancava proprio all'appello era il gol e il fatto che questa linea verde sia stata premiata con questa ciliegina sulla torta del nostro ormai magico vittorio è stato un momento, devo dire, bellissimo, a cui poi non è seguita una partita che ha avuto una linearità sulla spinta di questo gol. Col passare dei minuti siamo andati un pochettino a subire forse la fisicità dell'avversario, sicuramente qualcosa non è andato come previsto, sul piano della tenuta abbiamo lasciato indietro qualche cosa e magari Cesare che qualche anno in più di esperienza, nonostante abbia da poco compiuto questi suoi 22 anni o 23, ho appena detto. 23, 23. Vedi, 23, io volevo già scalare qualcosa, in effetti siamo nel 2021, devo prendere questa abitudine a focalizzare l'anno. 2021, Cesare che cosa è mancato dal tuo punto di vista nel proseguo della partita? Perché col passare dei minuti si è sempre un po' ceduto il passo all'olbia. Penso che innanzitutto abbiamo cominciato molto bene la partita, abbiamo approcciato molto bene la gara perché sapevamo che era importantissima, è un bel po' che non riusciamo a trovare la vittoria e volevamo iniziare questo 2021 nel migliore dei modi. L'abbiamo approcciata molto bene, mi ha fatto un ottimo primo tempo, abbiamo subito trovato il gol con Vittorio e abbiamo avuto due oltre occasioni molto importanti dove potevamo segnare, raddoppiare e incanalare la partita a nostro favore. Penso che proprio questo, il fatto di essere andati a riposo sull'1-0, avendo sbagliato due o tre gole che potevamo fare, ci ha fatto capire che secondo tempo dobbiamo stare attenti, magari stare attenti all'olbia che adesso poteva ricaricarsi un attimo nell'intervallo e capire come gestire di più la partita, visto che avevamo iniziato a mille. Il nostro errore è stato probabilmente abbassarci un po', non essendo più così propositivi come nel primo tempo, cercando magari più di tenere 1-0 che cercare di fare il secondo e probabilmente questo approccio del secondo tempo ci ha penalizzato perché ci siamo abbassati un po' troppo e nel momento in cui comunque l'olbia davanti a degli ottimi giocatori lo sta dimostrando, essendo comunque in una fila di risultati utili consecutivi importante, è riuscita nell'1-1, poi probabilmente un po' di nervosismo appunto per non essere riusciti a chiudere la partita prima, c'è stata, però dopo l'1-1 ci siamo un attimo ripresi, non ci siamo disuniti troppo e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma è un punto che comunque esatto ci teniamo stretti come ha detto il mister perché comunque era una squadra molto in salute, è una squadra che comunque dobbiamo guardare in faccia la realtà ai nostri stessi punti, quindi rimane comunque lì attaccata a noi, è una squadra che con il proseguire delle partite potremmo tenerla indietro. Vabbè, chapeau, io direi che a questo punto il cappello lo potrei veramente togliere davanti all'analisi estremamente lucida, estremamente precisa, quasi pignola della partita da parte di Cesare Pogliano che ha maturato tanta esperienza perché comunque il suo trascorso precedente al Novara calcistico gli ha già fatto calcare dei campi importanti e questa quota di esperienza sicuramente nel Novara è qui per macinarla, per farla fruttare ancora di più e per mettere ancora più minuti, ancora più qualità alla sua capacità di esprimere gioco. Vittorio, io tornerei di nuovo da te perché non solo il gol segnato ma anche la possibilità di ribadire il concetto che la via del gol non ti è una strada sconosciuta, insomma è una certa confidenza, vero? No, questo è vero, anche nel settore giovanile dove io ho sempre fatto l'esterno d'attacco, trovavo il gol abbastanza spesso, non sono mai stato uno che faceva chissà quanti gol, però il mio sono sempre riuscito a dirlo in tutti i campionati che ho fatto. Poi il mister mi ha visto bene anche da terzino e io mi sono ovviamente adeguato al ruolo cercando sempre di dare la mia disponibilità e sempre di dare il meglio per la squadra. Insieme a te sulla linea d'attacco una nota di merito anche per Andrea Cisco, naturalmente ci stiamo riferendo a lui che è un uomo che quando punta la porta nel momento in cui troverà la piena convinzione delle sue capacità effettive ci regalerà non poche soddisfazioni. Io continuo a spendermi questi due urini di scommessa sulla figura di Andrea Cisco che ha una fisicità impressionante, una corsa che pochi altri giocatori nella categoria possono vantare e un margine di crescita a dir poco esagerati. Insomma la difesa con Cesare ha avuto modo di dire la sua e direi in maniera molto opportuna. L'attacco ci ha fatto capire di che sto a fare, ci spiace per Gianmarco che sta stentando a trovare il gol ma a questo punto è veramente il caso di sottolinearlo. Secondo me è una questione mentale, nel momento in cui si sblocca qualche cosa che è lì a grippare un pochettino questo meccanismo ci regalerà delle belle soddisfazioni. È difficile dirlo in questo momento ma c'è tanta convinzione nelle mie parole, vorrei che passasse questa cosa, sono veramente convinto che Gianmarco ha questa sorta di maledizione, mi passi questa parola addosso perché dice no non è possibile, anche a sto giro non ho beccato la porta. Eppure quando questa cosa qui riuscirà a superarla e voglio credere sia molto presto, anche lui sarà di questo tipo di tenore e di tensione per andare verso la porta. Insomma torniamo a quella che è stata la gara, a quello che è successo in campo ragazzi, chi di voi si vuole prendere la responsabilità di fare un'analisi sul modulo di gioco decisamente inedito e sotto certi aspetti anzi direi quasi totalmente imposto dalle necessità per le squalifiche e per la indisponibilità dei singoli, quindi vi siete trovati ad approcciare un modulo completamente nuovo, Cesare ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, come ha detto lei per ragioni di assenze dovute a squalifiche ci siamo dovuti reinventare perché mancavano molti centrocampisti, mancavano schiavi e collo del per squalifica, Malik, Mbaie e Ante erano rientrati da poco, non avevano i 90 minuti nelle gambe e quindi siamo in tanti tutti i giocatori che comunque si mettano a disposizione dell'allenatore e della squadra perché vogliamo fare bene, vogliamo uscire da questo momento complicato e quindi a centrocampo eravamo un po' corti e quindi il mister ha voluto aiutare la difesa mettendo bianchi buzzegoli entrambi davanti a noi e cercando di difenderci e attaccando, mettendo quindi tre giocatori comunque di spinta che potevano far gol come Panico, come Cisco e lo stesso Vittorio che sono felice che abbia trovato il gol con davanti appunto Zigoni e infatti il primo tempo è successo proprio questo, abbiamo avuto poco da fare in difesa soprattutto perché eravamo molto spesso in attacco perché abbiamo messo in difficoltà la loro difesa anche con lanci verticali dove sapevamo che i nostri quattro giocatori offensivi sarebbero riusciti a complicare la vita ai loro difensori e così è stato, peccato appunto non essere riusciti a raddoppiare però abbiamo secondo me seguito bene le nozioni del mister, avevamo proposto un ottimo gioco, ci siamo appunto abbassati un po' troppo il secondo tempo però penso che per essere la prima volta con questo modulo abbiamo fatto una buona partita. Prima che tu chieda qualcosa a Vittorio perché sono sicuro che hai qualcosa che è lì che ti preme conoscere da lui, Cesare volevo chiederti una cosa dal punto di vista della scaramanzia, ho notato che il mister per sdrammatizzare un attimo non aveva le tre boccette d'acqua all'angolo dell'area tecnica, ne aveva soltanto una, come mai? Eh, non me ne sono accorto, se ci avessi fatto caso anche a me avrebbe fatto un po' strano, non lo so, dovreste chiederlo a lui, probabilmente non so, con l'anno nuovo ha cambiato qualche scaramanzia o magari appunto col fatto che comunque è un buon periodo che le cose non girano proprio nel verso giusto magari ha voluto dare un cambio anche la scaramanzia. Che dici Noemi? Magari anche questo è un segnale, tutto compone il mosaico che deve portarci a venire fuori da questa situazione. Allora Vittorio, io volevo chiederti, sei il 2003, quindi sei giovanissimo in confronto a tutti i tuoi coetani, cioè i coetani, in confronto a tutti i ragazzi della squadra, come ci si sente ad essere il più piccolino in mezzo a tanti comunque persone che sono dei pilastri del Novara, che sono lì comunque da tantissimi anni, come ti relazioni con loro, il vostro rapporto? No, allora devo dire che all'inizio è stato comunque strano perché ritrovarsi in spogliatoio con certi giocatori come Pablo, come Bianchi, come Buzzegoli, che comunque hanno fatto la storia di questa società e comunque che ho sempre di fatto da bambino e che trovavo per esempio nelle figurine, quindi è stata veramente un'emozione unica. e ritrovarsi a giocare con loro mi ha aiutato tanto a crescere perché ho dovuto sempre impegnarmi, ho sempre cercato di dare il meglio perché quando ti trovi dei compagni così al tuo fianco devi sempre dare il massimo e quindi mi hanno aiutato tanto a crescere, mi hanno sempre consigliato anche in campo cosa fare, non mi hanno mai lasciato solo, mi hanno sempre aiutato e quindi devo dire un grazie a tutti i miei compagni, ma anche ai compagni più giovani come Cesare, come Cisco, come Colloder, che mi danno sempre una mano in qualsiasi situazione, quindi la mia crescita che spero continuerà è soprattutto grazie alla squadra. Beh, io direi che in giorni in cui si sta celebrando anche il DS del passato Giaretta che è andato a trovare Bruno Fernandes a Manchester e i giornali riportano l'immagine di questo incontro, continua ad essere motivo di sprone per chi come voi, giovane, approccia quei campi sui quali Bruno in maniera del tutto inaspettata è esploso fino ad arrivare a essere il fenomeno che questi giorni il calcio mondiale sta contemplando, oltre non dimentichiamolo a essere compagno di nazionale di un certo cristiano di nome Ronaldo Di Cognome e di conseguenza uno che nel calcio mondiale una certa visibilità l'ha presa. Io credo che tu non debba in qualche modo Vittorio parlare al passato, mi hanno aiutato, mi hanno dato, mi hanno, ma che continuano e continueranno a darti molto, perché questo è il bello della squadra, dello spogliatoio, avere continui stimoli e sostegni l'uno sull'altro ed è credo l'unica ricetta possibile per venire fuori da questo momento sicuramente non facile. Cesare, si va incontro al mercato di gennaio che, se mi recito esprimere un'opinione personale, non è mai stato quello che mi è piaciuto, è sempre un po' vissuto come il mercato di quelli che devono ricollocarsi, rimettersi, l'ossatura della squadra è quella che abbiamo in campo in questi giorni. Quanto disturba o crea comunque del disagio rispetto al solito la finestra a mercato mentre il campionato è nel pieno del suo svolgimento, Cesare? Sicuramente sì, è un momento particolare della stagione, perché magari anche inconsciamente un giocatore va a vedere i giornali, va a vedere i siti che riportano appunto notizie sul nostro campionato e qualche notizia, magari anche non vera, sulla tua squadra esce sempre, magari esce appunto una notizia che c'è in corso una trattativa per un giocatore nel tuo ruolo, quindi comunque può essere magari una situazione in cui se mentalmente non stai concentrato e comunque non ci pensi troppo magari può condizionarti anche da un punto di vista appunto mentale durante le tue prestazioni è qualcosa che fa parte comunque del gioco, perché c'è sempre stata questa finestra di mercato e penso che non devi farti condizionare più di tanto perché le partite vanno avanti il mercato di riparazione dura un mese e in un mese fai 4 se non 5 partite e sono fondamentali, soprattutto in questo momento e quindi bisogna non cercare di farsi distrarre ma comunque il gruppo è unito, è coeso, vuole uscire tutti insieme da questa situazione e quindi non pensiamo a niente se non a portare a casa una vittoria Giustissimo, penso che sia parole d'oro, non bisogna farsi influenzare da quello che si legge da quello che purtroppo sappiamo tutti, calcio mercato, stagione invernale bisogna cambiare alcuni giocatori, bisogna prenderne di nuovi, sono cose appunto che non è che succedono sono proprio così ragazzi appartenendo al calcio professionistico oltretutto è un momento in cui il Novara ha questo avvicendamento nel ruolo chiave della gestione del mercato che è il cambio della figura del direttore sportivo con il ritorno al posto di Orlando Urbano che è stato accantonato in questo momento di una figura che proprio nel calcio giovanile ha avuto la sua massima espressione ovvero il ritorno di Mauro Borghetti persona, figura che soprattutto loro più giovani conoscono in modo diretto per averlo avuto come altra figura al loro fianco ovvero come allenatore, come mister, come quello che sul campo dirige e dà gli ordini oltre che essere quello che veglia sulle loro posizioni all'interno della società come vedete Vittorio, a partire da te, questo ritorno di Mauro nella figura di direttore sportivo al quale va il nostro in bocca al lupo naturalmente Esatto, parto con fare anch'io l'in bocca al lupo al nuovo direttore sportivo Borghetti con la quale io mi sono sempre trovato benissimo anche nel settore giovanile e che penso siamo tutti d'accordo sul fatto che il suo lavoro l'ha sempre fatto nel miglior modo possibile scoprendo tanti giocatori come appunto Bruno Fernandes ma anche tanti giocatori che tutt'oggi sono nella prima scuola del Novara come per esempio me, come Bove, come Riccardo Colledel e tanti altri quindi sono sicuro che il direttore Borghetti farà un grande lavoro e sono tanto in fiducia per questa persona Cesare, io approfitto per le battute finali di questo nostro appuntamento con l'Azzurro qui su MS Channel il discorso delle prossime partite durante questa finestra a mercato secondo me sono due partite dal peso notevole sia tecnico quanto emotivo contengono tutti e due gli aspetti nell'ordine, domenica prossima si va a Como squadra messa insieme da un ex della Maglia Azzurra il grande Charlie Ludi che naturalmente affettivamente abbracciamo in questo momento ma che troveremo d'avversario domenica prossima e poi ci sarà naturalmente lì dietro l'angolo la partita che grida vendetta che vuole il riscatto che vuole l'orgoglio azzurro e l'attaccamento alla Maglia il derby con la Provercelli Cesare a te un commento su questo futuro prossimo ma sono molto complicate perché sono due squadre che quest'anno stanno facendo vedere grandi cose il Como con la partita che deve recuperare adesso con l'Alessandria può puntare alla Serie B lo sta dimostrando ha un organico importante è una sorta di derby anche quello per noi perché comunque appunto anche in panchina so che ci sono due ex Novara lo stesso il mister Gattuso e Guidetti che era con noi l'anno scorso e ci teniamo tantissimo a far bene perché comunque riuscire a portare a caso il risultato con una squadra che sta facendo molto bene una delle squadre probabilmente più forti di questo di questo girone e ci darebbe un rilancio incredibile anche dal punto di vista mentale e il derby con la Provercelli invece non c'è neanche da commentare quello è un derby che ogni volta che scende in campo devi solo pensare a vincere non importa come non importa il periodo che stai vivendo quella partita lì è unica e penseremo prima a Como ma subito dopo riseteremo tutto e penseremo solo alla partita di Provercelli come se fosse una finale e beh direi che c'è veramente tanto in termini appunto emotivi di tensione di concentrazione di coesione come è stato più volte detto questa sera e credo sia uno degli argomenti che dovranno dominare la lettura di tutto il percorso azzurro non è facile stare sul campo è questa la verità Fabrizio non è facile stare sul campo poi in momenti in cui ti manca anche il pubblico ti manca non è semplice noi siamo bravi a parlare però se ci mettiamo anche noi sul campo probabilmente probabilmente sicuramente più che probabilmente però insomma è bello che sia così il nostro tempo a disposizione ci fanno ampi cenni è terminato anche se devo dire è stato talmente piacevole parlare con voi pur in un momento che se uno lo prospetta prima di andare in onda dice non è proprio facile in queste giornate dove bisogna stare sul pezzo bisogna avere molto equilibrio pretenderlo da chi per l'anagrafica ti farebbe supporre una condizione un approccio molto diverso io mi complimento con voi ragazzi per questa capacità di starci dentro perché è giusto vederla così in questo momento e di alzare sempre di più il livello di tensione di entusiasmo perché vorrei vedere tutti poter esplodere come abbiamo visto esplodere Vittorio dopo che ha segnato il gol e ha corso quei 60 metri verso la panchina azzurra per andare a raccogliere e a dare a sua volta un abbraccio che conteneva tante cose che lui sa e che deve tenere nel cuore secondo me per tutta la vita perché il primo non si dimentica mai grazie ragazzi grazie mille a voi grazie mille a voi buona serata noi naturalmente poi ci troveremo qui lunedì prossimo grazie ragazzi grazie Cesare complimenti anche a te tantissimo complimenti a tutti ragazzi perché è un momento da cui bisogna venire fuori le risorse sono dentro di voi e da voi dovete attingere per potervi togliere da questa situazione ve lo meritiate ce lo meritiamo e tutti insieme dandoci appuntamento a lunedì della prossima settimana ci salutiamo con il nostro Forza Novara sempre Ciao con eolo più navichi ultraveloce anche nei piccoli comuni a partire da 24 euro e 90 con installazione gratuita vai su eolo.it eolo internet dove gli altri non arrivano eolo